Ciao beautine, bentornati in questo quarto video pensato per Halloween oggi vi propongo questo trucco che è veramente semplice da realizzare ma d'effetto, ma passiamo subito a vedere la realizzazione di questo video allora innanzitutto vado ad incollare con la colla per ciglia finta la cerniera ovviamente ho pretagliato la cerniera della lunghezza giusta per il mio viso successivamente sulla parte di viso contenuta all'interno della cerniera vado ad applicare questo ombretto in crema rosso lo vado a sfumare bene con un semplicissimo pennello per ombretto successivamente vado a fissare l'ombretto rosso con la cipria trasparente applico l'ombretto in crema rosso anche all'interno della rima inferiore dell'occhio all'interno della cerniera vado ad applicare un po' di ombretto nero per dare l'effetto tridimensionale con un cotton fioc bagnato vado a pulire la cerniera e per dare l'effetto sangue fresco vado ad tamponare sempre con il pennello per ombretto un po' di lip gloss rosso e niente vi lascio le immagini finali io spero che questo trucco vi sia piaciuto noi ci rivediamo nel prossimo video che è anche l'ultimo tutorial pensato per Halloween e vi mando un bacione ciao bucina ciao 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 ciao